Ciao bambini e bentornati sul canale! Oggi giocheremo insieme al Pirata Pop-Up, un bellissimo gioco da tavolo! E per questo gioco ho invitato quattro amici speciali! Bing, ciao bambini! Gekko, ciao! Molang, ciao ragazzi! E la dottoressa Peluche, ciao tutti! Ciao ragazzi e benvenuti! Siete pronti a giocare insieme a noi? Certo, ma in cosa consiste questo gioco? Oh Bing, è molto semplice come gioco! Dovrete inserire delle spade all'interno del barile dove si trova il pirata! Ma fate molta attenzione perché se mettete la spada nella fessura sbagliata, il pirata salterà fuori e finirà il gioco! Oh ma è terribile! Ma no Dotti, non ti preoccupare, è un gioco molto molto divertente! Dai dai, allora cominciamo perché sono davvero curioso! Ok, adesso tiro fuori tutto il contenuto della scatola e iniziamo il gioco! Oh ma ci sono tantissime spade! E queste noi dovremmo metterle nel barile! Esatto Molang, le vedete tutte queste fessure? Dovrete mettere una spada alla volta in ogni fessura! Fino a quando il pirata non salterà fuori e ovviamente finirà il gioco! Oh bene, sembra molto facile! Allora dai, cominciamo! Ok, il primo sarà Bing, seguito da Gekko, poi ci sarà Dotti e per finire Molang! Siete pronti? Oh, prontissimi! Dai Bing, scegli una spada che vuoi! Di qualsiasi colore? Certo, va benissimo qualsiasi colore! Ok, allora io ne voglio una rossa! Ecco qui, vediamo dove metterla! Proviamo con questa fessura! Oh, speriamo di non farlo saltare! Oh, ok! La prima è andata bene! Oh, io invece voglio la spada verde! Vediamo un po'... Oh, opla! Perfetto! Oh, io voglio la spada gialla! Vediamo dove metterla! Proviamo qui! Oh, benissimo! E beh, allora io voglio la spada blu! Proviamo un po'... E la metto qui da un lato! Vediamo un po'... Oh, dai dai, non saltare! Oh, sì che bello! Non è saltato! Bravissimi ragazzi, il primo giro è andato alla grande! Continuiamo con il giro! Vieni Bing! Oh, allora io adesso ne voglio una gialla! E provo a metterla qui! Vediamo un po'... Ho paura! Oh no, benissimo! Non è saltato! Oh, io riprovo con quella verde! È il mio colore preferito! Proviamo qui! Bene, bene! Oh, adesso io ne voglio una rossa! Provo a metterla qui sotto! Vediamo un po'... Oh, ottimo! E io voglio quella gialla! Proviamo qui! Oh! Oh, bene, bene! Adesso è ancora il turno di Bing! Oh, vediamo cosa posso scegliere! Proviamo con quella blu! E la metto proprio qui davanti! Vediamo se ho fortuna! Oh, sì! Perfetto! Dai, io provo a cambiare colore! Voglio quella rossa! Mettiamola qui dietro! Oh! Oh, bene, bene! E io ne voglio una verde! E voglio metterla qui sotto! Oh, bene! Che fortuna! Io ci riprovo con quella blu! E la provo a mettere qui! Vediamo un po'! Ottimo, ottimo! Bene, ragazzi! State andando davvero alla grande! Bing, tocca ancora a te! Oh, sì, sì! Ma voglio provare con la spada blu! E la provo a mettere qui! Vediamo un po'! Oh! Oh, meno male! Non salta! Oh, adesso è il mio turno! E scelgo la spada gialla! Proviamo qui! Oh, ma che fortuna! Oh, iniziano a diminuire molto le spade! Vediamo quella rossa! Proviamoci! Oh, bene, bene! E io provo... Mmm... Con quella verde! Oh! Oh, bene, bene! Non è saltato neanche a me! Oh, allora! Questa volta la voglio blu, la spada! Proviamo a metterla qui! Sì, speriamo di non farlo saltare! Oh, no! Che fortuna! Oh, io voglio quella gialla! E la metto qui sotto! Vediamo un po'! Oh, bene, bene! Mmm... Allora, io ne voglio una rossa! E la metto qui sotto! Oh, no! È saltato il pirata! Oh, che peccato, Dotti! Hai beccato proprio la fessura sbagliata! Quindi, vuol dire che Dotti ha perso e noi abbiamo vinto! Esatto, Molang! Oh, ma è stato davvero semplicissimo! Già, ma purtroppo l'unica femminuccia del gruppo ha perso! Uff, sono sempre la solita sfortunata! Però, ragazzi, vi è piaciuto questo gioco? Oh, sì! È molto divertente! E a voi, bambini! Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace! E se non lo avete ancora fatto, cliccate qui per iscrivervi al canale! Mentre, se volete vedere tantissimi altri video, cliccate qui! E noi ci vediamo prestissimo! Ciao, bambini! Ciao, bambini!